Sì, sai come si fa? Ti faccio vedere. Aspetta un momento, si giochi in due. Non è vero, io lo faccio sempre. Ah sì? Beh, giochiamo tutte e due. No. Non vuoi proprio farmi giocare, eh? Io sì, Capitan Gaio che ha detto di no. Capitan chi? Capitan Gaio. E chi è Capitan Gaio? Beh, io gli faccio delle domande con questo e lui mi risponde. Ah, Capitan Gaio, capito. Gentile. Ah, scommetto di sì, eh? Ti faccio vedere. Bene. Capitan Gaio, trovi che la mia mamma è bella? Capitan Gaio? Capitan Gaio, non sei mica tanto gentile. Non puoi darsi che dorma. Dici? Rega, perché leggi questa roba? Perché mi piace. Non sei neanche venuta bene qui? Non è vero. Ti mostri tanti più anni. Senti chi parla. Non dovrei, eh? Eh, no. Beh, quando l'hanno fatta non c'era neanche un trucco. Aspetta, hai un peletto sull'occhio. Bene. No, no, non l'ho presa. Che facciamo per il tuo compleanno? Non è bello che quest'anno capiti di domenica. Niente lavoro. Che possiamo fare? Non lo so. Ma mamma, che ti piacerebbe fare? Non è un'idea. No. Fammi pensare, fammi pensare che si può fare. Eh, non abbiamo finito di vedere tutti i monumenti di Washington. C'è ancora tanta bella roba. Vogliamo farlo? Andiamo in giro, eh? C'è una bella giornata. Sì, certo. Bene. E domani sera ti porto al cinema. Va bene? Oh, ti voglio bene. Anch'io tanto, Rex. Ti farò divertire, sai? Puoi portare il signor Denny, se ci tieni. Il signor Denny? Voglio dire, mi sa bene.